Noi rivendichiamo quindi una funzione della bicicletta che ha dignità perché è considerata dal codice della strada, quindi è considerata un veicolo e come tale ha diritto di esistere e di avere anch'esso gli stalli, i parcheggi appositamente realizzati. Questa è la nostra proposta, adibire un posto auto per 10 posti biciclette e magari ogni 5-6 posti auto mettere un posto riservato alle biciclette potrebbe dare quella dignità che riteniamo non da amanti della bici come ci definiscono, in realtà noi siamo degli utilizzatori di un mezzo di spostamento come lo è l'automobile e tutti gli altri che frequentano la strada. Quindi in base a questo noi crediamo che questa soluzione possa essere non solo praticabile ma auspicabile proprio dalle strategie del comune. Stamattina ho letto un post del sindaco Carlo Masci il quale ci definisce appunto amanti della bicicletta, sindaco noi non siamo amanti della bicicletta, noi siamo utilizzatori di un veicolo sulla strada e ci ha attacciato di inutile polemica, noi non facciamo inutili polemiche, noi facciamo delle proposte in base anche a una visione della città che noi abbiamo, ma non solo noi, l'agenda 2030 che è di carattere mondiale stabilisce delle cose, la mobilità sostenibile che si sta perseguendo non solo in Olanda o in altri paesi ma in Italia si stanno realizzando delle cose abbastanza importanti, Pescara sta realizzando delle cose, di questo lo riconosciamo, questa che è la ciclostazione è una realizzazione importante per questa città però insomma sono tutti progetti piuttosto anzianotti, ormai vecchi ma nulla si sta facendo per progredire in questo senso, le vicende delle piste ciclabili che si stanno realizzando sono sotto gli occhi di tutti per cui la considerazione che ha la bicicletta ancora una volta è sempre marginale, non possiamo tollerare che la mobilità ciclistica sia residuale rispetto a tutto il resto della mobilità.